Buongiorno e benvenuti all'appuntamento con la rassegna stampa di Omnibus. In primo piano sui giornali di oggi la giornata di ieri a Bruxelles, una giornata che è stata scandita da tre vertici internazionali, quello della Nato, il G7 e il Consiglio europeo ai quali ha partecipato il Presidente americano Joe Biden e nell'ambito dei quali è stata ribadita la compattezza dell'Occidente accanto all'Ucraina e contro la Russia. Biden ha sostanzialmente sottolineato in particolare che se verranno utilizzate delle armi chimiche ci sarà una risposta che sarà proporzionata a quanto verrà messo in atto e oggi Biden sarà tra l'altro in Polonia già per affrontare la questione che riguarda i profughi. Il nostro Premier Mario Draghi naturalmente era presente, ha ribadito che l'Italia rispetterà quelli che sono gli impegni con la Nato per quanto riguarda gli investimenti militari. Sappiamo che è un discorso divisivo nell'ambito della maggioranza con il Movimento 5 Stelle che ha preso le distanze e poi si continua naturalmente a combattere sul campo con la resistenza che ha fermato l'avanzata verso Kiev. Le truppe russe sono ad alcune decine di chilometri dalla capitale mentre comunque si continua a combattere in diverse parti del paese, in particolare al sud e a Mariupol. Allora partiamo con il Corriere della Sera. Eccolo qua il titolo principale. Biden e l'Unione Europea, più armi a Kiev, annunciate nuove sanzioni contro Mosca, l'ONU stop al conflitto. La Cina si astiene, è stata votata la risoluzione appunto delle Nazioni Unite per fermare la guerra e la Russia naturalmente ha votato contro Draghi. Gas non si paga in rubli perché questa sarebbe una violazione degli accordi che ci sono con la Russia. Questa fotografia ci racconta quello che è accaduto ieri nel porto di Berdyansk dove è stata colpita una nave militare russa da parte di Kiev. Ancora la sfida energetica, case e aziende, l'ipotesi del razionamento. E poi una notizia sportiva, una brutta notizia perché siamo fuori dai mondiali. Sconfitta storica, l'Italia campione d'Europa battuta in casa dalla Macedonia. Mancini si dimette e lui sostanzialmente appunto avrebbe detto ci devo pensare. Vediamo la Repubblica. Uniti contro Putin, Biden, se ci saranno attacchi chimici risponderemo e vuole cacciare la Russia dal G20. Colpo ucraino, missili su tre navi nemiche, gas piano americano per l'Europa. 15 miliardi di metri cubi entro la fine dell'anno. Pronti a nuove sanzioni, congelato l'oro del cremelino. Conte sfida Draghi sull'aumento della spesa militare, ma il Premier conferma la sua scelta. Apertura della stampa, Biden sfida Putin, reagiremo ad attacchi chimici, esclusa la no-fly zone. In arrivo però ci saranno nuove sanzioni. Nessun pagamento in rubli per il gas, è l'ONU possibile un uragano di fame. Quindi è stato lanciato l'allarme per questo aspetto. Nei tre summit consecutivi a Bruxelles, gli alleati ribadiscono l'unità occidentale e la linea dura del Presidente americano avverte il cremelino. E poi Draghi a conte sulle armi, non torno indietro. E ancora, io nel cimitero di Mariupol, l'esercito ucreno riconquista terreno, migliaia di morti anche tra i russi. Vediamo anche il messaggero, eccolo qui. Armi chimiche c'è l'alto là a Putin. Biden, il leader della Nato, avvertono il cremelino. Se userete sarà la vostra fine all'Ucraina. Più armi per colpire aeree e carri. Draghi rassicura gli alleati sulle spese militari. In taglio alto la vicenda di Fedez, il dramma social, ho un tumore raro. Sono stato operato per sei. Ora il pancreas aveva annunciato il rapper di avere un problema importante di salute senza dare ulteriori dettagli. Gli ha dati ieri sui social dopo essersi sottoposto a questo intervento. E ancora, Cingolani, dai big della finanza speculazioni sul prezzo del gas. Il ministro è stato ascoltato in procura a Roma. Poi ancora si parla di flat tax, che resta fino a 65 mila euro. Sconto IRPEF per i redditi più alti. E la fotografia che ci ricorda appunto che per noi è finita l'avventura dei mondiali perché appunto siamo fuori. Il sole 24 ore, sanzioni, bloccato, l'oro di Mosca, piano americano, più gas e liquido all'Unione Europea. Dal vertice G7, controlli sulle transazioni in oro della banca centrale russa, sale il numero di oligarchi colpiti, Gazprom Bank, nel mirino di Londra. C'è un'intervista oggi a Caltagirone sul sole 24 ore, generale, una battaglia per l'indipendenza. Ancora, sempre dal sole 24 ore, Draghi, il metano in rubli, è violazione dei contratti e Bonomi, che insiste sul fatto che serve un tetto in Unione Europea. Poi svanisce, ci racconta il sole 24 ore, l'effetto accise perché scattano nuovi rincari per benzina e per gasolio. Il fatto quotidiano, Nato e Draghi più armi, il Papa, che ieri ha commentato una pazzia e poca pace minaccia i russi se useranno armi chimiche come quella americana. A Falluja, dice il fatto quotidiano. Il foglio, in taglio alto, a firma di Claudio Cerasa, la Nato, l'economia, Putin, e le parole del Papa, la follia non è armare l'Ucraina, ma ostinarsi ad inseguire la politica dei non farò. Diamo un'occhiata anche rapidamente al domani. Gli Stati Uniti manderanno più gas all'Unione Europea, ma non basterà a liberarci di Mosca. Ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, riprendiamo subito dopo con la lettura dei giornali. Bentornati in studio, proseguiamo con la rassegna stampa di Omnibus. Siamo all'apertura del giornale guerra dei due mondi, Occidente Unito, Unione Europea, G7 e Nato, si armano a destra e avvertono Mosca, ma la Cina sta con la Russia e Kim lancia un supermissile, nuove voci, fronda anti-Putin, tra gli ex KGB. Libero, santa alleanza anti-Draghi, Vaticano, grillini e partigiani, Conte minaccia la crisi di governo, se verranno alzate le spese militari, il pontefice Pazzi, è il 2% del PIL per la difesa, Lampi, niente armi a Kiev. Apertura del manifesto, l'alleanza non russa, il giorno di vertice a Bruxelles, con la Nato che rafforza la presenza militare sul frontest, ma dice no alla richiesta di Zelensky, sull'invio in Ucraina di tank e di aeree, poi c'è l'avvertimento di Biden a Putin, sulle armi chimiche e l'Unione Europea, che sottolinea, non paghiamo il gas in rubli, e ancora Draghi e Conte in rotta di collisione, proprio sulla questione degli investimenti in armi. Il tempo ultimatum a Putin, l'Occidente che risponde compatto, ancora la verità, l'ambasciatore in chioda d'Alema, disse che lavorava nell'interesse di Leonardo, un colloquio con il capo della diplomazia italiana in Colombia, su questa vicenda, e poi ancora le sanzioni beffa, la Cina ci rivende il gas degli Stati Uniti. Vediamo anche l'apertura dell'avvenire, la folle corsa alle armi, con il Papa appunto, che ha detto una pazzia, l'aumento delle spese militari al 2% del PIL, oggi per la pace la consacrazione a Maria, di Russia e di Ucraina. E ancora vediamo anche l'apertura del mattino, con la questione delle armi chimiche in primo piano, e l'alto là della Nato. Allora andiamo nelle pagine interne dei quotidiani, partiamo dal Corriere della Sera, per vedere un po' più nel dettaglio appunto, quali sono stati i temi al centro di questi tre vertici internazionali. Stati Uniti e Unione Europea, nuove sanzioni, attacchi chimici, al tolà della Nato, si rafforza il fianco est a Kiev, più sistemi antimissili e droni, Washington offre il ponte transatlantico del gas, vuole Mosca fuori dal G20, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che ha votato la risoluzione che ferma appunto la guerra. È il Presidente Biden a chiarire il senso del suo viaggio in Europa e della sua partecipazione di persone tra i vertici, che ha creato una certa aspettativa. Il mantenimento delle sanzioni sta aumentando il dolore, il motivo per cui ho chiesto questo vertice della Nato, ha detto al termine dell'incontro, è di essere sicuro che un mese dopo sosteniamo ciò che stiamo facendo, non solo il mese prossimo, quello dopo, ma per il resto dell'intero anno. Questo è ciò che lo fermerà, aggiunto riferendosi al Presidente Russo Putin. Il G7 ha stabilito che ulteriori sanzioni sono possibili, se sarà considerato necessario, ma Casa Bianca e Commissione Europea sono già al lavoro sul quinto pacchetto. Inoltre, ieri sera, in una dichiarazione congiunta a Biden-Wonderlein, hanno annunciato l'istituzione di una task force per affrontare insieme le esigenze immediate di sicurezza energetica dell'Unione Europea a accelerare la transizione verso l'energia pulita. e hanno anche ribadito l'impegno a monitorare le misure già decise che non siano aggirate da Mosca. E ancora, sempre dal Corriere della Sera, armi e spesa militare, Biden ridisegna l'alleanza e la guiderà lui, ci racconta il Corriere della Sera, e non Bruxelles. L'incontro può segnare una svolta per gli equilibri del vecchio continente, si discute sull'ambiguità costruttiva, flessibilità sul non intervento, ovunque gli stati investiranno nel riarmo. Ancora, sempre dal Corriere della Sera, c'è questa storia che volevo segnalarvi. Ivan gestiva gli aiuti, rapito, al checkpoint da giorni. Aveva paura alla sorte di un vicesindaco vicino a Zaporizia. Temiamo torture. Parlano gli amici più stretti. La sua auto trovata al posto di blocco. I russi negano ogni informazione per la commissaria ucraina per i diritti umani, deportate in Russia 400 mila persone. E ancora, le parole di Liliana Segre sulla guerra in Ucraina. L'equidistanza, dice, non è neppure concepibile. La senatrice a vita in un videomessaggio a Lampi provo un orrore difficile da descrivere, possiamo solo unirci per chiedere un immediato. Cessate il fuoco. Andiamo un attimo sulla Repubblica. Eccola qui, perché per quanto riguarda l'Italia, antidroni e sistemi elettronici, pronte le nuove armi per Kiev, ma Draghi insiste sul fatto che bisogna cercare la pace. In un colloquio con Biden, il Presidente del Consiglio Italiano, chiede gas liquido e petrolio dagli Stati Uniti e dal Canada, contatti con Erdogan sulla Libia. e sulle questioni che riguardano, vediamo un attimo anche gli argomenti, eccolo qui, che riguardano le armi e l'impegno dell'Italia nei confronti della Nato, abbiamo questioni interne che dividono la maggioranza. Draghi acconta, rispetterò i patti della Nato, PD in rivolta, Di Maio è più affidabile, il Premier stop è leader dei Cinque Stelle. E letta sulle spese militari, troveremo una soluzione. L'ira dei Dem, non si può mettere a rischio l'esecutivo, l'avvocato del popolo è allo sbando, perché appunto ieri proprio in un'intervista alla stampa, il leader dei Cinque Stelle, Conte, aveva preso le distanze in maniera molto netta da questo impegno che Draghi intende rispettare. Le parole di Enrico Letta, appunto, non credo ci saranno problemi sulle spese militari con Conte, troveremo soluzioni, bisogna restare uniti. E in effetti, a quanto ci racconta la stessa stampa, sembra che non sia a rischio il Governo. I Cinque Stelle frenano sulle armi, non apriremo una crisi, grillini non presentano l'ordine del giorno contro il riarmo, Conte si difende al Copasi per quanto riguarda la vicenda degli aiuti dalla Russia per il periodo del Covid, e infatti sottolinea dalla Russia solo aiuti per il Covid. Per trovare un accordo per quanto riguarda la questione delle armi, c'è tempo fino ad aprile quando si voterà il DEF. E ancora ci sono le parole di Di Battista, sbagliato attaccare Cinque Stelle, il no alle armi è nel nostro programma. E i timori del Movimento non alzare i costi per la difesa può sembrare un favore a Mosca. Dunque anche all'interno del Movimento Cinque Stelle ci sono delle divisioni su questa questione. Ritorniamo a parlare delle sanzioni che si stanno preparando nei confronti della Russia e che però dividono i grandi sul petrolio, infatti l'Unione Europea vuole aspettare. Francia e Germania appoggiate dall'Italia frenano su un ulteriore pacchetto spinto da Biden e da Johnson, ma i paesi dell'Est chiedono di agire e dunque ci sono degli aspetti su cui non c'è proprio, come dire, unità di intenti. Ma c'è, ci racconta la Repubblica, l'intesa per i gas, forniture americane per affiancare l'Europa. Nel 2022 gli Stati Uniti invieranno 15 miliardi di metri cubi in più. L'Unione Europea si accorda su acquisti e stoccaggi comuni e scontro sul tetto dei prezzi, tetto che ancora appunto non c'è, come dire, unità di intenti sul volerlo appunto imporre. Le sanzioni. Putin ha detto che vuole che il gas venga pagato soltanto in rubli. Quello di Putin è soltanto un blef. L'Unione Europea non ha nessuna intenzione di farlo ed è pronta a stracciare i contratti dagli States. Appunto dovrebbe arrivare più gas. L'Unione Europea non pagherà in rubli perché questo non è previsto appunto dai contratti che sono stati appunto fatti con Putin. Draghi intanto vede l'olantese rutta e insiste per imporre appunto un tetto al prezzo del metano. Vedete, è un argomento che ritorna sui giornali di oggi. C'è un allarme che viene lanciato dalle Nazioni Unite ed è quello che viene appunto definito da questo titolo della stampa. L'incubo fame. La guerra scatena l'emergenza. Cibo per la FAO. A rischio ci sono 13 milioni di persone. Il G7 serve un vertice mondiale e piani straordinari di Biden e di Macron. Le questioni riguardano i prezzi naturalmente di alcuni prodotti, i prezzi spinti dallo stop ai cereali ucraini e alle forniture russe e dalle strozzature dell'offerta. Dunque c'è appunto una situazione di allarme su questo fronte. Per quanto riguarda la Russia, intanto che cosa succede? Negozi chiusi, merci razionate, i russi con i carrelli vuoti dallo zucchero ai pannolini. La spesa nella capitale è contingentata, i supermercati sperano scorte in arrivo, ma avanza l'autarchia. Il vicepremier che dice niente panico, i prodotti ci sono, l'inflazione preme dai mutui ai pomodori, i prezzi aumentano per via delle sanzioni. Vedete, le fotografie ci raccontano di scaffali, diciamo, semivuoti, se non appunto già vuoti e c'è la questione appunto che preoccupa maggiormente. E diamo un'occhiata rapidamente anche alla stampa, da cui vi volevo segnalare questioni che riguardano i carobolletti e cingolani in procura, i colossi della finanza, dietro l'essua del gas. E noi ci fermiamo con la rassegna stampa di oggi. Per questa mattina è tutto, e ora spazio a Paolo Sottocorona per il meteo. Buongiorno Paolo. Buongiorno Emanuela, grazie. Sembra la stessa immagine di ieri, perché in effetti non è cambiato molto, quasi totale assenza di nuvole sull'Italia, nuvole a sud-ovest, quindi nell'angolo in basso a sinistra. Foto uguale, tempo uguale? Beh, vediamo, vediamo, perché per la giornata di oggi, rispetto a ieri, è prevista qualche nuvola in più. Vedete che qualcosa comincia a prendere la Sardegna, forse qualche debolissima pioggia, qualche nuvola arriva anche al sud, sulle zone interne del centro, sull'Abruzzo, forse qualche debolissima pioggia, nel pomeriggio siamo in zona appenninica, è poi confermato, perché anche nei giorni scorsi lo dava, qualche isolatissimo fenomeno sulle zone del Trentino Alto Adige, addirittura una piccola zona con fenomeni intensi, insomma, mettiamoci un punto interrogativo. Però, come dicevo, qualcosa cambia. La giornata di domani vede molte nuvole al centro e al sud, piogge ancora poche, perché vedete Sardegna, ancora una volta l'Appennino, fra Lazio ed Abruzzo, con qualche debole pioggia, scompare tutto al nord, ecco perché, insomma, ci avevamo messo il punto interrogativo, qualche pioggia sulla Corsica. A ovest, un po' di piogge. Siamo sul verde, significa piogge deboli, però qualcosa si comincia a muovere. Nella giornata di domenica, questo, al tempo, tra virgolette, perché non è particolarmente intenso, si sposta verso il sud. Quindi, al sud, vedete, che cominciano ad esserci piogge di una certa consistenza, o comunque sono abbastanza estese, così come in Sardegna. Poi, salendo al centro e verso il nord, restano soltanto nuvole al nord, probabilmente nemmeno quelle, però, insomma, è sicuramente un cambio di passo. Le minime di questa mattina sono relativamente elevate, perché sono salite un poco, hanno recuperato un poco, ma per la stagione, insomma, ci dovrebbe essere qualcosa in più. E lo stato dei mari, che restano sicuramente, con moto ondoso molto forte, quelli occidentali, il mare di Sardegna, il canale di Sardegna, il rosso è un mare agitato, poi, via via, che si va verso est, mari centrali, orientali, troviamo un rassicurante celeste, che indica un mare al più, ma proprio al più, poco mosso. Se volete, ci vediamo intorno alle 7.55, adesso pubblicità, poi la prima edizione del nostro telegiornale, con Emanuele Agarulli. A più tardi. a più tardi.